Ed eccoci qua, sono le 16 di questo sabato 2 maggio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti sul profilo Instagram di Billboard Italia. Come sempre sta per iniziare un appuntamento di Billboard Calling, ovviamente nell'edizione weekend che parte venerdì e termina la domenica con un doppio appuntamento, quello delle 16 e quello appunto delle 19. Tra pochissimo mi collegherò con l'ospite di quest'oggi, che tra l'altro è Reduce dal concerto ieri del primo maggio, andato in onda appunto su Retra, io l'ho visto, volevo sapere se magari l'avete visto anche noi. Parto subito ringraziando uno dei miei angeli custodi, Matteo Fabbroi, che mi darà una mano in questa diretta. Eccolo qua Cristiano, ciao, come stai? Benvenuto! Bene, grazie, che accoglienza, grande. Ci mancherei? Sto bene, sono Reduce da un concerto visto ieri sera su Rai3 che penso ti abbia visto anche protagonista. Ma non sei andato fra il pubblico a Roma? Hai il meno, caro Cristiano, hai il meno. Come stai? Allora, parto chiedendoti come stai trascorrendo questa quarantena intanto, come stai passando queste giornate. Ma gli stati d'animo si sono un po' interconnessi, c'è stata una fase di spaesamento, ora lo spaesamento è addomesticato, ma è anche una strana sensazione di... Comincia anche a esserci un po' di noia, la preoccupazione rimane sullo sfondo, non si sa bene ancora che cosa sta accadendo. Sto cercando di recuperare la parte creativa di me stesso, queste cose qua. Allora, ieri ti abbiamo visto appunto esibirti al primo maggio, il primo maggio più anomalo di sempre, il primo maggio del distanziamento sociale. Il tema del lavoro per tutti coloro che lavorano, diciamo, nel settore musicale, tecnici, organizzatori, produttori, insomma, è particolarmente delicato. E gli scenari futuri sono preoccupanti. Qual è il tuo pensiero a tal proposito? Ma io l'ho espresso molte volte, non è un pensiero ottimista, non è un pensiero che riesce a essere confortante e confortevole. Ci sono preoccupazioni molto ragionevoli. Intanto, veramente, bisogna che la gente non si dimentichi che esiste tutto un sottobosco di persone senza le quali i concerti a cui assistono e si divertono non ci sarebbero. A volte mi sembra addirittura strano sottolinearlo, però poi mi rendo conto che non è esattamente una specie di equazione automatica che la gente fa. Bisogna ricordare alla gente che tutte le persone che lavorano per noi sono essenziali. Senza di loro parlo dei tecnici, parlo di quelli che quando io rompo una coda sul palco... E' bravo! Quelli che montano il palco, quelli delle organizzazioni, del promoter, cioè tutta una serie di persone che costituiscono un folto indotto che è in gravissima sofferenza. E poi, vabbè, insomma, molti artisti, ho notato che dicono non tanto per me, io invece dico anche per me, per quel che mi riguarda, perché se ci impediranno di suonare come sembra, anche se ancora non è certo niente, però se ci impediranno veramente fino all'estate del 2021 di suonare, vuol dire che i musicisti non avranno modo di guadagnare nulla fino all'estate del 2021. Non è esattamente una cosa per tutti, è per i molto benestanti questo. Quindi mi auguro che succeda qualcosa e che io sotto sotto da qualche parte, in maniera non raziocinante, ma così legata a una speranza che non vuole morire, mi auguro che prima di quel periodo succeda qualcosa. Però è anche una cosa non da sottovalutare proprio la questione psicologica della gente stessa. Cioè bisogna poi vedere, anche se per dire domani al governo, i politici, gli stessi tecnici, i medici ci dicessero scusate abbiamo sbagliato tutto, potete tornare a fare le cose di sempre. Non sono sicuro che tutti poi in realtà si assembrerebbero per andare ai concerti, abbracciandosi come prima, perché psicologicamente bisogna un po' scrollarsi di dosso un peso che è un macigno a tutti gli effetti. Due cose. Uno, la dimensione virtuale, secondo te, dato che in questo momento ci si rivede in due modalità, la dimensione virtuale se potrà sostituire per questo periodo che dici anche te la modalità live, due, le proposte che sono fatte, ultimamente tra le ultime c'è anche quest'idea del drive-in. Non so se l'hai sentita, se ne sta parlando. Volevo i tuoi due punti di vista perché tutte e due comunque portano un denominatore comune che è la possibilità di far lavorare, ovviamente, dei detti lavori. Due, la possibilità comunque di trovare dei momenti, passano in termini, di gioia per coloro che poi nella vita normale non hanno più la possibilità di vedere i loro artisti esibirsi normalmente. Qual è il tuo pensiero a merito? Il mio pensiero è connesso con la preoccupazione. È chiaro che se veramente ci dicessero che la condizione normale non è immaginabile fino alla data che ho detto, allora accetterei di buon grado qualche soluzione alternativa. Mi rendo conto che andare a vedere un concerto come se si fosse un drive-in non è la stessa cosa e me ne rendo conto. Mi auguro veramente che anche se si dovrà arrivare agli streaming live, gli streaming dei live, scusa, mi auguro che non diventi poi una consuetudine della serie. Beh, in fondo è figo, possiamo anche non andare al concerto, parlo in uno scenario futuribile. Mi auguro che non sia una cosa che sostituisca l'emozione del live. Io personalmente, ad esempio, avrei immaginato che io non sono un particolare amante del calcio, io tifo toro ma senza essere così acceso e anzi mi conviene non essere così acceso, perché è una squadra che purtroppo regala anche molte sofferenze ai suoi tifosi, però non vado allo stadio. Ma ho sempre immaginato che era impensabile per un amante del calcio non più andare allo stadio. Poi invece gli streaming, le dirette, in televisione e quant'altro hanno anche sostituito in molti l'attitudine ad andare fisicamente allo stadio. Mi è sempre passo di dover dire che per i concerti questo non potrà succedere. Ora questa cosa la prova, la pandemia la metterà alla prova e vedremo. Allora, pochi giorni fa hai postato sui social una foto con Nick Cave, al quale hai anche dedicato una playlist su Spotify. Cosa fa di Nick Cave un artista unico nel panorama rock? Cosa ricordi di quell'incontro? Non fu l'unico. In quell'incontro erano i camerini dell'Alcatraz, quello direi cinque anni fa, una cosa del genere. Ci andavo in qualità, diciamo, di amico-conoscente. Non ci frequentiamo, mi piacerebbe molto, ma non accade. Però se lui viene a sonare in Italia io vado a trovarlo. Lui è veramente superiore, secondo me, proprio come artista. Non ha mai ceduto a nessun tipo di attitudine compromissoria. Questo io lo sostengo a spada tratta anche per i Marlene Kunze. E in fondo io credo che ci sono sicuramente, fra i vecchi fan di Nick Cave, coloro che invece direbbero no, perché il duetto con Kylie Minogue, tutte cagate, tutte stupidaggini. Quel duetto era magnifico, era una canzone splendida. E gli dette una popolarità mondiale. Che poi lui ha saputo gestire con un'attitudine artistica clamorosa qualsiasi suo disco. Cioè uno se si legge i testi di Nick Cave, se si legge quello che scrive innanzitutto, posto che non è la cosa essenziale che un musicista ci si aspetta prima di tutto che faccia delle ottime canzoni. Però se poi uno analizza e si legge i testi di Nick Cave, dentro c'è un'intelligenza superiore. E' un'intelligenza la Bob Dylan, per quanto poi lui, cioè qua e là io becco anche proprio da dove arrivano a volte le sue fascinazioni. Lui non è uno che ha inventato qualcosa. Lui lo diceva anche nelle sue interviste, anche da giovane, diceva ma mi sono sempre stato inserito, lo diceva anche con uno spirito quasi polemico, sono sempre stato inserito nell'onda, diciamo così, del rock, della new wave sperimentale, ma io non credo di aver mai inventato nulla. Io perpetuo un cliché, che è vera questa cosa, lui non inventa nulla, semplicemente ha uno stile mastodontico che sa fare delle canzoni magnifiche nel suo repertorio che saranno, non so, di 250-300 canzoni, almeno 100 sono veramente delle gran, gran canzoni. E' un mito vivente, è una specie di Johnny Cash ancora vitale. A proposito di playlist, secondo te le playlist sono i nuovi mixtape? Boh, non lo so, non lo so perché, non ho neanche l'attitudine al mixtape, quindi non so esattamente fare un paragone, però ecco, io quando due mesi fa ho finalmente deciso, con tempi pachidermici, di avere anch'io la mia pagina su Spotify, e quindi di avere Spotify, perché mi sono sempre un po' rifiutato di averlo, perché sapevo che una volta lì dentro non ne sarei più uscito, c'è tutto, e quindi diventa troppo facile, ma è svilente da certi punti di vista, però le cose stanno così, anche quando arrivo il CD io per un po' provai a resistere, sapendo che nel momento in cui avessi comprato il primo, era finita, esatto. Ora sono sempre dentro Spotify se devo cercare qualcosa. Ecco, quando ho aperto la pagina e ho deciso di fare la mia prima playlist, ho proprio ammesso alle persone che ci seguono, quindi i nostri ammiratori, che io da pischello ci sapevo fare con le playlist. Credo anche di aver saputo conquistare qualche fanciulla con le playlist. Ah, ho capito. Perché ero originale nella scelta della progressione. Però ovviamente una domanda te la devo fare, cioè cosa ne pensi di queste piattaforme digitali, che ormai sono diventate di tutti, no? Totalizzanti. Spotify? Sì, 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 esattamente. Ma io penso male di internet da quando è nato, da questo punto di vista. Internet è arrivato e ci ha completamente distrutto una parte, la metà della nostra lavoro remunerato. Lo sto dicendo da una decina di anni e all'inizio sembrava un trogloditer incoglionito. Adesso sostanzialmente non c'è più nessuno che non ammetterebbe che internet alla nostra generazione sicuramente ha fatto un danno. Le playlist non remunerano un cazzo, cioè le playlist remunerano soltanto numeri enormi, giganteschi. Cioè se tu fai, che ne so, 100 milioni di streaming, hai una buona remunerazione. Ma non è una... Io faccio sempre questo paragone. Se uno nella vita, fortunato lui, avesse venduto, come qualcuno sicuramente ha fatto, 100 milioni di dischi fisici, quei 100 milioni di dischi fisici sono l'equivalente di una fortuna. Cioè tu metti a posto te stesso, i figli dei tuoi figli e i figli dei tuoi figli dei tuoi figli. Se tu fai 100 milioni di streaming, io credo che l'equivalente sia 40-50 mila euro di ricavo, una cosa del genere. Quindi ora voglio che la gente si renda conto di questo, perché è così che stanno le cose. Le piattaforme sono figlie di internet, è tutto un mondo da riconsiderare. Sicuramente i giovani ragazzi, i rapper, i trapper e tutta un'altra serie di persone hanno saputo adottare un linguaggio sicuramente al ribasso. Non parlo tanto dei testi, alcuni rapper, sono anche sicuramente, si usa dire, impegnati, fra virgolette, ricercati per così dire. Ma è proprio il tipo di linguaggio che si adotta nella comunicazione che io detesto, proprio questa semplificazione che è l'unica che fa funzionare la comunicazione a queste regole e che è un gioco al ribasso che è molto difficile da sostenere per gente come me che ha più di 50 anni e che proviene idealmente e idealisticamente da tutt'altro mondo. Rinunciare a una serie di parametri che sono i nostri fondamenti è complicato, ma rimanere abbarbicati a quei soli fondamenti sperando che un giorno tutto cambi purtroppo potrebbe essere la tua condanna. Quindi è una specie di rincorso a un compromesso molto difficile, ma un dato è certo, noi e noi come tanti altri da quelle piattaforme lì non ricaveremo se queste sono le condizioni. Vorrete sapere quanto è un click, quanto vale un click di streaming. Vale 0,003 centesimi, una cosa del genere. Un click, ok? E si basa tutto su questo, la computa, no? La conta della tua remunerazione. Quindi i Malena Guns, come tanti altri, non potranno mai arrivare a fare centinaia di milioni di streaming, a meno che ora le persone che ci stanno sentendo, sensibilizzate da queste mie parole, cliccheranno tantissimo. Si divulgano la divulgazione globale e comincino a dire a tutto il mondo cliccate, cliccate, cliccate. Per assurdo però, l'altra faccia di questa cosa è che l'accesso a tutta la musica è un privilegio per le persone che in realtà hanno la possibilità così di ascoltare e aumentare la propria cultura. Sì, è un privilegio, però io non sono un eroe. No, lo so, capito. Vivo delle mie cose. Privilegio, sì, 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 però insomma sono lavori, sono cose che ha un senso pensare remunerate e non regalate. Anche questi contenuti regalati in questo tempo, la musica che aiuta tutti, bene, perché aiuta anche la gente a sopportare la reclusione, no? Devo stare a casa, musica, spettacoli, cinema. Certo. Bene, proviamo a immaginare se non ci fosse più quale danno ci sarebbe. Ci sarebbe probabilmente ci comincerebbero a esserci delle piccoli inizi di rivolte popolari, di gente che non riesce a stare in casa. Noi, gli attori, il cinema, i contenuti delle piattaforme varie, in qualche modo aiutiamo la gente a passare il tempo. Io facendo quattro chiacchiere con Betto ho chiesto se potevi anche farci sentire qualcosa, immagino ti abbia informato. Facci io e Marlene che sono qua dietro? No, a noi tutti, a noi tutti se cantavi qualcosa, perché so che i tuoi fan sarebbero molti con te. Sì, sicuramente. e quindi appunto mi piacerebbe tra una chiacchierata e un punto di riflessione come stiamo facendo anche far sentire la tua voce. Sì, ma faccio tutto il pezzo. Non ho capito bene da mio fratello come funziona. No, mi fai quanto vuoi. Da attacco a un minuto, a quello che ti senti, perché tanto siamo a casa tua, quindi figurati. Non mi si vede con la chitarra, però c'ho la chitarra. Vai tranquillo, tanto la sentiamo. Però il fatto è che più mi allontano per farla vedere, meno mi sentite, quindi cerco un compromesso. Vai tranquillo. Forse la feria ho, e poi ci piace, sì, ci piace di più. Oltre passare in volo, in volo più in là, è meglio dal perdersi in fondo all'immobile. Meglio dal sentito si forti nell'abile. Mi fermo qua. forse sicuro al bene più radioso che c'è si forti forti nell'abile. Meglio dal chitarra si infongo all'immobile. Meglio dal sentito si forti nell'abile. Aspetta, adesso c'è il finale. forse davvero ci piace, sì, ci piace di più. Lieve! Cristiano Godano, ospite di Billboard Calling. Sono molto contento davvero di fare quattro chiacchiere con te e adesso mi sposto perché l'anno scorso si è pubblicato il libro Nuotando nell'aria dietro 35 canzoni dei Marlene Kunz in cui racconta il backstage del processo creativo dei Marlene Kunz. Ci puoi raccontare un piccolo assaggio del libro magari con qualche aneddoto particolare su un punto sull'ielo magari o su Nuotando nell'aria? Ma io con molta molta spudoratezza suggerisco per sfruttare questi tempi morti dalla pandemia chi non l'ha ancora fatto di leggerlo il mio libro o di sentirselo su Audible visto che l'ho letto anche quindi c'è su Audible e so che è piaciuto molto e sono molto felice ero anche abbastanza impaurito all'idea di leggere le cose perché è chiaro tutti sappiamo leggere però saperlo fare in un modo che sappia essere convincente e persuasivo per le persone non è esattamente una cosa da tutti invece ha funzionato e sono molto contento di questo è un libro dove io come hai detto giustamente tu cerco di prendere idealmente per mano il lettore e condurlo nel backstage del processo creativo che vuol dire è stato per me un esercizio di memoria importante perché si sta parlando di canzoni collocate nel tempo fra i 20 e i 30 anni fa è stato un esercizio di memoria perché ho cercato di ricordare qual era l'humus diciamo del mio immaginario che poteva anche essere tutt'altro rispetto alla canzone che poi sarebbe arrivata che però tramite tramite i suoi elementi costitutivi mi ha condotto ad avere un'intuizione che poi si è trasformata in un certo pezzo io personalmente da ascoltatore fruitore lettore amo quando un artista anche soltanto in maniera suggerita mi fa capire da dove arriva una cosa che ho amato molto quindi spero che le persone che mi leggono e che leggono quel libro abbiano qua e là quel tipo di sensazione l'anedotto ad esempio questo obiettivo che ho raccontato credo di averlo saputo inseguire molto bene a livello di suggestione con la canzone nuotando nell'aria dove c'è un elemento particolare che descrivo cerco di descrivere molto bene per far capire che quell'elemento lì del tutto estraneo alla canzone fu in realtà la scaturigine ciò da cui poi arrivò nuotando nell'aria mi ha fatto specie il fatto che tu mi abbia detto un minuto fa no sai ho dovuto anche leggerlo cioè per me ha fatto insomma non era una persona come te che ha calcato palchi per cui ha avuto davanti un sacco di persone mettersi in gioco nel senso che comunque avere il dubbio di poter non essere tra virgolette pronto per poterlo raccontare a livello di audio mi ha fatto devo dire la verità mi ha colpito molto perché tutto cioè perché secondo me è super bagno di umiltà non so scusami te lo dico tranquillamente ma in realtà sì non è falsa modestia è che detesto l'approssimazione cioè il fatto di dire si può fare qualsiasi cosa non sono fatto così e non mi piace essere così quindi se faccio una cosa spero di essere all'altezza della situazione e questo vuol dire se non hai mai fatto una cosa non è detto che sei in grado di farlo no però mi fa specie proprio perché comunque la tua voce cioè è riconoscibilissima il tuo timbro il fatto che comunque normalmente sei a contatto con la gente non è che hai iniziato l'anno scorso l'hai detto te sono andato indietro di 20 o 30 anni e nonostante questo mi fa molto piacere che un grandissimo professionista come te si metta lì e dire ma sarò all'altezza per fare anche questa cosa è un rimettersi un gioco come se fosse uno step zero è una cosa molto bella vera no ma io ti ringraziavo prima e ti ringrazio senta però ti ringrazio allora nell'intervista che hai fatto che abbiamo pubblicato l'anno scorso sul magazine di Billboard parlando sempre del tuo libro hai detto nel testo di una canzone come in una poesia si possono dire solo poche parole quelle quelle parole quindi sono anche pregne di tutto ciò che hai scartato che non hai potuto dire è sempre così? cioè ci sono volte in cui l'impressione è di aver detto troppo in una canzone? no è un concetto più è un concetto più impalpabile diciamo e diciamo è un po' il il goal di un ottimo lettore quello di avere una specie di sensazione non voglio dire di saper indovinare le parole che l'autore ha scartato ci mancherebbe però è come se quelle scartate fossero lì lì si intuisse che non ci sono non sono entrate ma erano erano e questa cosa del del come posso dire tendevo un po' a dire quello cioè è talmente preziosa la parola scelta quella definitiva che deve entrare in un componimento poetico e per derivazione in un testo di canzone che si deve un po' come dire sentire quanto è lontana la spontaneità tutto ciò ma quanto invece è fondamentale la ricerca la cociutaggine il non accontentarsi della parola banale ma cercare quella giusta che però deve saper soddisfare la doppia funzione del ben significare ma anche del ben suonare perché la poesia come disse Paul Valery è una lunga esitazione tra il suono e il significato cioè ogni parola è l'esito di questa lunga esitazione ed è un po' come se in fondo si percepisse in maniera subliminale tutto ciò che è stato scartato è sottile è una visione molto sottile e molto molto impalpabile però ha un senso credo la mia curiosità arriva quali sono le canzoni dove hai avuto più difficoltà a inserire e togliere e adesso tutte quelle che mi hanno dato del filo da torcere che sono canzoni che ci è voluto un po' di tempo prima di accettare che fosse definitiva la mia scelta ora a memoria non sapevi però se mi dai un quarto d'ora faccio così io tanto andiamo a te con la chiacchierata intanto ragionaci poi a fine intervista mi dici siete venuti in mente va bene allora sempre l'anno scorso è stata pubblicata insieme a Greatest Eats anche la raccolta covers and rarities con pezzi che vanno da Mona Lisa di Ivan Graziani a Karma Polis dei Radio e c'è un filo conduttore anche a livello concettuale che lega determinate scelte cioè qual è la scintilla artistica che trovano comune a tutti quegli artisti non credo ci sia un filo conduttore a volte le scelte delle cover che abbiamo fatto sono sono dettate da delle occasioni ad esempio in fondo non lo so Siberia del diaframma venne fuori con molta soddisfazione mia e di Federico Fiumani l'autore del pezzo perché proprio lui mi invitò a un disco di cover che si chiamava Il Dono dove una serie di artisti reinterpretavano a loro scelta un pezzo del repertorio dei diaframma e io parlai con Federico che appunto mi chiamò per propormi queste cose e io immediatamente gli disse adorerei fare Siberia perché è un pezzo che ho amato da giovane e che considero uno dei grandi pezzi del repertorio dei diaframma capisci che questa quindi è un'occasione non è esattamente ci sono sicuramente delle cover che sono invece arrivate impressione di settembre ad esempio che è una cover molto fortunata che abbiamo fatto perché è stata molto gradita dalla gente anche quella in fondo per certi versi è una parziale occasione perché noi eravamo ospiti di Scalo 76 questa trasmissione che si fece e ci venne detto avevamo eravamo gli ospiti di riguardo di quella puntata quindi avevamo tre pezzi a disposizione ma ci chiesero di fare una cover cioè sarebbe bello se gli inventassi una cover e uno di loro disse disse due o tre ma noi avremmo scelto per conto nostro però poi disse anche beh cazzo l'impressione di settembre io lo guardavo immediatamente ma sì certo io ho amato quel pezzo lì proprio io mi ricordo il me post adolescente che amava proprio quei pezzi la carrozza di Hans proprio canzoni magnifiche della PFM e quindi anche lì poi chiaramente mi sono ritrovato del tutto in sintonia fin da subito Karma Polis è un'altra venuta fuori da un'occasione di questo tipo tra l'altro l'impressione di settembre proprio per tornare al discorso Spotify ha tanti click più di un milione sì sì quindi non è nostro questo no lo so lo so però se vai sullo Spotify di Marlene Kunz vedi che è oltre un milione di click quindi vuol dire che la gente ha cliccato 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 diciamo cliccate 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 per cui andatela anche a risentire dopo se volete allora i Marlene Kunz si formarono un contesto sociale e culturale molto ovviamente diverso da quello attuale cosa è rimasto di quello spirito alternativo che caratterizzò gli anni 90 italiani oggi potrebbero nascere gruppi come i Marlene Kunz secondo te o vedi già dei possibili eredi questo silenzio questo silenzio no ma è una tipologia di risposte che è un azzardo comunque che ne so se potrebbero o non potrebbero nascere a me viene da dire di no non in questo momento perché nelle fascinazioni dei ragazzi di adesso il rock veramente non è una priorità le musiche che girano sono legate al rap e attenzione a me il rap piace in genere sono legate e poi in Italia in questo momento funzionano veramente anche nel mondo lo chiamano indie e io continuo ad essere estremamente perplesso sulla scelta della parola indie per indicare quello che è pop a tutti gli effetti mi rendo conto che c'è di mezzo una connessione di natura proprio filologica cioè indie come la metà della parola indipendente e in effetti alcune produzioni di questi gruppi che poi sono diventati enormi in Italia probabilmente erano andate verso l'autoproduzione quindi a tutti gli effetti erano indipendenti però nella mia generazione indie era anche un aggettivo di natura estetica era proprio esattamente definiva un gruppo che era era l'opposto di ciò che è il pop cioè era proprio musica non per tutti alternativa l'indie indicava quello mentre invece l'indie di cui si parla qui in Italia in questo momento i nomi si sa quali sono è tutt'altro che musica per pochi è musica per tantissimi ed è pensata per essere per tantissimi con una produzione quasi industriale di singoli tutti che funzionano e che le radio passano passano in heavy rotation totale beati loro perché perché hanno scoperto un segreto però ecco non credo che in questo momento ci sia il terreno ci sono credo che siano pochi gruppi di adesso che mettono su una band di stampo prettamente rock ci sono e quando io intercetto magari mi danno dei demo e in qualche modo capisco che si parla di un certo tipo di rock li guardo anche con molto stupore perché sono veramente dei cani sciolti gente che sta facendo una cosa che forse non ha neanche tanto pubblico in questo momento il pubblico segue altro non segue sicuramente quello non posso non chiederti se magari stai ascoltando qualcosa o hai scoperto qualche gruppo rock o indie inteso indie come dici te da poter consigliare a coloro che ci stanno seguendo adesso è la classica cosa che quando è finita la diretta mi viene in mente uno che non è più freschissimo perché mi pare che sia già il terzo disco però comunque è ancora in crescita è l'ultimo di King Krul è un disco l'ho sentito una volta ma è veramente notevole e lui è un ragazzotto è uno che avrà 25 anni non lo so ha iniziato si è fatto notare intorno ai 18-19 anni e lui fa sicuramente la sua estrazione ai rock a parte che poi nella sua musica c'è dentro tutto c'è funk però tutta roba di grandissimo gusto niente di modaiolo una roba proprio super una visione molto molto focused molto focalizzata sui suoi obiettivi molto molto sui generis molto lui e lui sicuramente è un figo da questo punto di vista torniamo alla musica ci sono qualcos'altro sì abbiamo parlato di cover stavo per guarda ci siamo guarda veramente allineatissimi mi hai letto nel pensiero speravi questo? no ma mi agganciavo all'ultima al discorso che stavamo facendo per cui vai tu mi hai letto nel pensiero non 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 mi hai letto nel pensiero ragazzi 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 sì 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 non fai in tempo a partire la cosa che mi piace di più è che non fai in tempo a partire che tra coloro che ci seguono partono subito a scrivere tipo Sarabanda a scrivere mi fa impazzire questa cosa veramente senti in attesa della tua ospitata di oggi abbiamo postato una storia come sempre il giorno prima per richiedere delle domande ai tuoi follower e ai follower di Billboard da poterti porre io partirei con qualcuna di queste domande se sei d'accordo sì sì Anna ci chiede una cosa che hai scoperto di te stesso durante questa quarantena probabilmente la mia tenera vulnerabilità wow ma anche la la serena consapevolezza di poterlo dire senza dover fare la rock star inscalfibile cioè in questi giorni nelle mie dirette personali ho anche veicolato le turbe di tutti noi le paure legate a cosa sta per accadere e non so forse sono atteggiamenti che non pagano per una crescita nel mainstream me ne rendo conto ma non è mai stata una parte nostra dei Marlene Kunz quella di giocare a fare le rock star per quanto poi invece all'inizio della nostra carriera in me molti abbiano visto uno scostante che se la tira su di me ho letto veramente un sacco di cose purtroppo molte sbagliate però ecco forse saperne approfittare è proprio quel tipo di gioco che alla fine fanno molti musicisti allora non posso non chiederti in base a quello che hai detto la cosa che in questi anni hai letto che ti ha fatto più incazzare ripeti la cosa? che in questi anni che hai letto che ti ha fatto più incazzare invece quella che ti è piaciuta di più ma quelle che mi piacciono di più sono quelle sono quei complimenti sono tanti complimenti che riceviamo io sono sempre estremamente felice mi gratificano e mi nutro sono quelli dove intercetto la specificità la profondità della comprensione delle nostre cose non è esattamente una condizione o sine qua non non è necessario per me per la mia soddisfazione che tutti abbiano bene a mente anche quella cosa che dicevo prima le parole non dette però c'è una tipologia di ammiratori che arriva da quelle parti e che ha una conoscenza delle nostre cose dei miei testi che mi commuove mi sorprende e mi investe di un senso di responsabilità sempre altissimo perché sono persone che non possono essere deluse dal nostro processo relativo noi cerchiamo e sono quelle persone che con molta intelligenza da noi si aspettano che noi non ci si adagi mai sul nostro cliché non sono quel tipo di persone che da anni ci sfiancano con questa cosa che non siete più quelli dei primi tre dischi e ci rompono veramente molto i coglioni ci dispiace molto leggere queste cose perché mi sembra molto ingeneroso nei nostri riguardi perché puoi dire che non ti piace più perché non ti piace sentire un certo tipo di approccio ma non puoi scrivere che tristezza si sono rincoglioniti che schifo ma paffanculo ma che cazzo ne sai mi verrebbe da dire a proposito di questa cosa mi aggancio con una domanda di Tea che chiede Cristiano vorrei iniziare ad ascoltare Marlene Kurz da quale disco dovrei iniziare? da qui io avrei bisogno di vederla in faccia a questa persona non ti posso aiutare no per provare a intuire che tipo di ascolti storicamente la connotano in modo da indicarle un disco dei primi quindi più impetuoso o di quelli più riflessivi provo una via di mezzo e le suggerisco nella tua luce ok gli o gli non ho capito se era un Tea è un ah ok ok Giovanni un libro da leggere almeno una volta nella vita ah quelli che seguono i Marlene Kunze sanno che io ho una fissa per Nabokov non è che lego l'autore di Lolita però io più che altro cerco di fare proselitismo cioè fare in modo che molti scoprono un autore di cui non bisogna aver paura in realtà bisogna un po' aver paura perché purtroppo richiede un certo tipo di applicazione però anche senza comprendere tutto del suo mondo la densità e la qualità poetica della sua scrittura dovrebbe veramente essere intercettata da tutti quelli che ancora non l'hanno conosciuto partite pure da Lolita che è il suo capolavoro cioè il suo oggetto mainstream diciamo è il best seller però Nabokov è molto di più che solo Lolita siamo arrivati ai saluti io prima di chiudere intanto ti chiederei di stare lì fammi un bel sorriso ci facciamo un bel selfie quindi un bel 3 2 1 aspetta lo faccio bene 3 2 1 ok dopodiché mi piacerebbe che come hanno fatto anche altri tuoi colleghi ricordassi che se si sta a casa magari prima finisce tutto e torniamo a vedere i concerti live presto insomma ah ma con me non mi devi pregare io detesto quello che sento c'è un'onda montante di gente che sta cominciando in internet io queste cose mi fanno proprio veramente andare un po' fuori di testa mi spiace molto che una parte dell'umanità sia così traviabile comunque c'è gente che sta parlando di regime c'è gente che sta parlando di virus balla cioè io questa gente chiederei ma tu manderesti tua mamma ottantenne in giro immaginando che siano tutte balle credo che la risposta sia no c'è gente che discute i numeri dei morti io non lo so io non riesco a vivere la vita in questo modo così sospettoso i morti sono un dato di fatto conosco persone che hanno avuto dei morti e che hanno fatto un percorso esistenziale pessimo perché la morte a cui si va incontro è pessima si muore da soli non assistiti dai propri parenti e quindi è ovvio che bisogna sperare che questo contagio cessi quanto prima possibile e purtroppo non sarà semplice è ovvio che se allentiamo la tensione e ce ne fottiamo e rischiamo di rimettere in gioco la recrudescenza del male sarà dura sempre di più sempre di più e quindi è ovvio che sto dalla parte delle persone di buon senso in chiusura come avevo accennato al buon Beppe noi abbiamo preso spunto da Liam Gallagher che ha rielaborato la sua Wonderwall in modalità Wonderwash perché l'ha canticchiata durante un lavaggio umani quale canzone il buon Cristiano Godano potrebbe cantare anche senza chitarra a cappella per un lavaggio umani che potremmo si lavaggia no ma ovviamente questa cosa mio fratello me l'ha detta e ci ho dovuto pensare un attimo perché in realtà in realtà la canzone sotto la doccia vale ogni cosa proprio io mi posso ritrovare sotto la doccia a cantare cose che non mi piacciono ma che sono entrate come un tormento nella mia mente in quei giorni ora non vi delizierò con una canzone di queste che non mi piacciono in realtà mi viene in mente io ho fatto questa playlist di Nick Cave ne abbiamo parlato prima e quando l'ho fatta ho riascoltato due o tre pezzi suoi che era un po' che non riascoltavo per creare la miglior playlist possibile e due o tre pezzi poi hanno cominciato a starmi un po' nella testa in questi giorni e uno di questi è un pezzo di Nick Cave di cui accenno quindi le strofe io non canto mai a cappella quindi adesso lo faccio solo in quanto a un po' di persone for you dear I was born for you I was raised up for you I've lived for you I will die for you I'm dying now you're my mad little lover in a world where everybody fucks everybody else over you are so far from me way across some cold neurotic sea far from me è una canzone da The Both Men's Call che per me fosse il suo secondo più bel disco di sempre credo sia una roba di 20 anni fa circa più o meno e però nonostante non è che Godanno debba sempre essere cupo quando fa le cose ma certo ma certo però questa canzone qua comunque già nel titolo è in linea con quello che stiamo vivendo perché Far From Me è lui che sente lontana alla sua persona anche se in realtà è una canzone che ha un cinismo diverso però ecco Far From Me quanta gente in questo momento si sente lontana lontana certo quindi quindi va bene quindi era pertinente come scelta assolutamente allora io ti ringrazio Cristiano di aver trovato il tempo per stare insieme a noi ricorda tutti i tuoi fan che hanno seguito l'intervista che la salveremo quindi per le prossime 24 ore la potranno trovare su Profilo Vista Grandi Billboard Italia e lunedì la troveranno sul nostro YouTube io ti auguro di il meglio come sempre di poterti vedere presto live che mi farebbe molto piacere e ti ringrazio ancora per la disponibilità grazie a voi grazie a tutti saluto tutte le persone che scrivevano qua sotto ho visto anche un'amica cuneese americana che mi ha scritto una cosa che ho visto che sappia che l'ha letta e ho riso molto ciao Cristiano grazie mille ciao Cristiano Godano ospite in Billboard Calling Weekend in questo primo appuntamento delle ore 16 di sabato io vi ricordo che torniamo fate un paio di ore di acquisti se volete se volete fare la spesa andate e tornate a casa o vi rilassate un attimo o merenda ci vediamo qua alle 19 con un altro grandissimo Busta dei Subsonica da Stefano Fisico è tutto un ringraziamento a Matteo Fabroni che mi ha dato una mano a livello autorale e un ringraziamento a voi che avete seguito questa diretta seguite sempre Billboard Instagram Facebook Twitter applicazione sito e Youtube più di così dove c'è la musica c'è Billboard ciao